Si è insediato il nuovo Consiglio Comunale di Fevara. Le novità di questa legislatura sono la diminuzione del numero dei consiglieri che da 30 passano a 24 e il premio di maggioranza, ovvero 14 consiglieri comunali della stessa coalizione gruppo, in questo caso 14 del Movimento 5 Stelle. Dicevamo, stamattina si è svolta la cerimonia di insediamento, seduta che è iniziata con quasi un'ora di ritardo rispetto all'orario stabilito. I lavori sono stati aperti dal consigliere più anziano per voti, ovvero Vito Maglio di PDR Sicilia Futura, collaborato dal segretario comunale dottor Gabriele Pecoraro. Fatto l'appello, il consigliere Scalia ha proposto un minuto di silenzio per le vittime del Bangladesh. Si è proseguito poi con il giuramento e con la dichiarazione di eventuali cause di ineleggibilità e incompatibilità con la carica di consigliere. Poi la votazione per l'elezione del presidente e vicepresidente del consiglio. Come prevedibile è già annunciato ieri, è stato eletto presidente del consiglio Salvatore Dinaro con 14 preferenze, 9 schede bianche ed una stenuto, il consigliere Tonino Scalia. La carica di vicepresidente è andata a Calogero Pirrera, 14 preferenze e 10 schede bianche. Ringrazio i consiglieri comunali che hanno dato la loro fiducia, ora sarò il presidente di tutti i consiglieri comunali. Ringrazio tutti per la fiducia che mi è stata accordata e ricordo che la nostra funzione è quella di essere di raccordo tra l'attività del consiglio comunale e l'amministrazione. Concluso questo iter, c'è stato il giuramento del primo sindaco donna della città di Favara, Anna Alba, che ha presentato anche la squadra assessoriale e affidato l'incarico di vice sindaco a Lillo Attardo. I lavori sono proseguiti con la formazione della commissione elettorale, presidente di diritto e il sindaco Anna Alba. I componenti per due terzi sono della maggioranza, Sciara e Sorce, che hanno ottenuto 7 voti ciascuno, e Nobile, d'opposizione, che ne ha ottenuti 9. Votati anche i supplenti, Maglio dell'opposizione con 10 voti, Caramazza 7, Liotta 7 voti. E' stata poi fatta la strutturazione delle commissioni, che saranno 8. Ogni commissione avrà 5 componenti. Movimento 5 Stelle avrà 23 presenze, PD 3, Favara Popolare 3, Uniti per Favara 2, Favara Riparte 2, Favara Domani 2, insieme a Gaetano Airò 2, PDR Sicilia Futura 3. La prima riunione del Consiglio Comunale si è quindi chiusa per esaurimento dei punti all'ordine del giorno e dovrà nuovamente essere riconvocata dal suo presidente. Per la cronaca, nella prima seduta consigliare, si sono registrati diversi scambi di opinioni tra il consigliere di opposizione Scalia e la maggioranza consigliare del Movimento 5 Stelle, capogruppo San Fratello, nonché con la stessa amministrazione comunale e presidente del Consiglio. Una nota di colore, per la prima volta in Consiglio Comunale sono stati eletti anche due fidanzati che fanno parte della maggioranza, ovvero Sciara e Sorce.